La chiave di una buona alimentazione è saper contraddistinguere i diversi tipi di grassi. Salve, sono Susan Bowerman, responsabile della formazione nutrizionale Herbalife. La storia dei grassi è molto semplice. I grassi saturi sono i cattivi e i grassi insaturi sono i buoni. Ma poi la storia si fa un po' più complessa. La difficoltà è capire come ottenere il giusto equilibrio di due tipi di grassi poliinsaturi, in particolare gli omega 3 e gli omega 6. Ci sono diversi tipi di omega 3 e omega 6 che noi mangiamo, alcuni dei quali sono considerati essenziali perché il nostro corpo non è in grado di produrne la giusta quantità e nel giusto equilibrio. Gli acidi grassi aiutano a sostenere molte funzioni del corpo. Uno dei grassi omega 3, ad esempio, noto come DHA, contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della vista. Il problema è che nella nostra dieta è difficile ottenere un equilibrio. Rispetto alla quantità di omega 6 che assumiamo, l'omega 3 è molto inferiore. E quando questo bilanciamento non c'è, soffriamo abbastanza, ma non è sempre così. I nostri antenati mangiavano verdura, frutta, noci e pesce più di noi. Ed è sicuro che avevano un'assunzione di omega 3 e omega 6 più equilibrata. Negli ultimi 150 anni sono totalmente cambiate le nostre abitudini alimentari. Infatti, molte persone ora faticano ad ottenere la quantità necessaria di omega 3 per compensare l'assunzione di omega 6. Quali sono i cibi colpevoli di questa cosa? I cibi molto lavorati sono ricchi di grassi insaturi omega 6, che rendono questi cibi i principali responsabili dello squilibrio dei grassi e dell'eccessivo consumo di omega 6. Cibi fritti, prodotti cotti al forno, patatine, condimenti per insalata sono le principali cause. Infatti, tendiamo a mangiarne di più rispetto a cibi sani come omega 3, come pesce, noci e semi. Frutta secca e sementi sono un'ottima alternativa a biscotti e dolci. Un altro modo semplice per ottenere più omega 3 nella dieta è quello di mangiare pesce almeno due volte a settimana al posto della carne rossa o carne bianca. Aggiungere il torno in scatola e il salmone alla pasta o all'insalata può essere un ottimo inizio per cambiare la vostra dieta. Se pensate che sia difficile mangiare pesce due volte a settimana, l'olio di pesce può essere un ottimo sostituto in quanto è ricco di omega 3. Erba Lifeline Max contiene una miscela esclusiva di lipidi marini raffinati con alta percentuale di acidi grassi omega 3, in particolare EPA e DHA, che contribuiscono al normale funzionamento del cuore. Nell'esclusiva combinazione di questi oli di pesce raffinati e sostenibili, Erba Lifeline Max include oli essenziali di timo e menta piperita per ridurre al minimo ogni retrogusto. Sono Susan Bowerman, ricordate di gestire la vostra nutrizione con intelligenza.